ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo ho comprato un quarzo ebbene sì ho comprato un orologio al quarzo un simpatico longin al quarzo vintage che di voi mi seguo avrà notato che tempo fa in occasione del mio ultimo chiappone a livello di longin vintage mi ero rammaricato di aver lasciato indietro un longin ultra quartz che avevo notato su una bancarella ebbene il destino mi ha messo di fronte di nuovo a questo orologio io non ho potuto fare a meno che accapparrarmelo è stato più forte di me l'ho visto lì dallo stesso venditore lo stesso banchetto allo stesso prezzo e questa volta me lo sono preso e portato a casa perché perché nella mia collezione di longin vintage un orologio al quarzo un ultra quartz scusate mi viene sempre da super quartz perché perché sono come i supereroi no longin faceva in quel periodo lì a cavallo degli anni 70 l'ultracron l'ultronic e l'ultra quartz cioè a tutti ultra capito mi sembra di essere a parlare di supereroi quindi mi viene super quartz no ultra quartz e non ci vuole nella mia collezione di simpatici longin quindi ora andrò a farvelo vedere ed eccolo qua eccolo qua questo simpaticissimo orologio databile a metà degli anni 70 con la sua bellissima cassa cuscino tutto originale completamente originale corona originale fondello chiuso a scatto con i numerini di riferimento con le varie incisioni che come sempre ci sono ma cosa di particolare appunto questo ultra quartz da farmelo volere a tutti i costi praticamente è il primo calibro al quarzo di massa che ha incassato longin praticamente il calibro 91 80 è stato presentato a basilea nel 72 ed è stato prodotto fino al 77 e siccome era prodotto da esa esa 91 80 esa sarebbe eboucher sa che poi confluita in età ma era un progetto che vedeva tutta una serie di case che erano attorno a questo calibro sia di fascia medio alta che fascia medio bassa tra cui si può citare zenith che si chiamava x elettronic certina zodiac astro quartz si chiamava eberhard eterna lanco bvc insomma tutta una serie di case svizzere che utilizzavano questo esa 91 80 quindi abbiamo detto dal 72 al 77 presentata basilea del 72 non è il primo il primissimo calibro che ha realizzato longin o che ha utilizzato lungina al quarzo perché nel 70 fu presentato nel 70 il calibro beta 21 che altri non era che anche lì il consorzio di case svizzere che si erano messi assieme per presentare questo calibro al quarto il primo proprio gennaio 70 mi sembra quando secolo presentò a natale del 69 un mese prima arrivarono leggermente in ritardo però ben presto longin si rese conto che questo beta 21 era piuttosto costoso e quindi iniziò a sviluppare un proprio calibro che altri non era che il 65 12 detto anche cybernetic ecco questo qua venne presentato nel 71 nel 71 cybernetic perché era veramente particolare come calibro presentava un circuito stampato addirittura con condensatori resistenze transistor non un circuito integrato proprio stampato con delle saldature a vista era veramente una sorta di steampunk a vederlo così no quindi ricapitoliamo nel 70 al beta 21 nel 71 il cybernetic detto così e poi nel 72 alla fine questo calibro qua l'ultra quarto il 91 80 che utilizzarono tanti quindi lo si può considerare come il primo calibro e quarzo incassato di massa perché il beta 21 furono costretti a comprarne 600 pezzi proprio per far vedere che c'erano anche loro del cybernetic ne uscirono 2000 2000 orologi e basta infatti sono abbastanza ricercati anche per la bruttezza proprio del calibro che mentre questo qua venne prodotto dal 72 77 come ho già detto quindi proprio di massa è il primo calibro di massa e di serie di longin tra i pregi più rilevanti dell'esa 91 80 si può senza dubbio citare la sua notevole precisione e la grande robustezza anche grazie a questo dal capo stipite 91 80 esa fece poi uscire tutta un'altra serie di calibri 91 81 ad esempio era la versione dei date e così via 91 82 91 83 si tratta di un movimento che ha 7 rubini e presenta una parte elettronica composta da un modulo e quarzo notare le grandi dimensioni rispetto a quelli di oggi è un circuito integrato il tutto è chiaramente contenuto da una platina in plastica c'è poi il motore passo passo sul quale si può notare il rubino e il sistema inca bloc anti shock lì vi sono quattro bobine ed otto magneti ci sono poi altri ponti in acciaio che inglobano le varie ruote e i vari rimandi ci sono poi alcuni dettagli da evidenziare come le scritte nascoste sulla platina che solamente ingrandendo le immagini si possono vedere ad esempio la scritta 91 80 che sarebbe poi il nome del calibro e il logo esa in un altro recesso del calibro lì ben nascosto storia a parte per quell'inserto che riporta la scritta longin e il seriale del calibro quell'inserto veniva cambiato a seconda del cliente finale troviamo infatti inserti con scritto eterna quartz certina zenith e tutte quelle case che incassavano il 91 80 c'è poi da fare una considerazione sulla datazione dell'orologio o meglio dire del calibro che veniva effettuata utilizzando il seriale presente inciso sul calibro purtroppo dopo il 1969 longin ha cambiato sistema passando dai 14 milioni erotti al numero 50 milioni senza parente senso logico e continuità temporale è difficile adattare in base a questo numero tenendo poi presente che sul fondello esterno continuano a scrivere una cifra attorno ai 17 milioni nei miei studi ho potuto constatare che non vanno di pari passo e creano un po di confusione non sono univocamente interpretabili di sicuro ci troviamo tra i 75 e 76 ma in aiuto ci viene quella cifra presente sul circuito integrato che ci indica l'anno e la settimana di produzione del circuito integrato stesso ovviamente 75 13 significa che è stato prodotto nella tredicesima settimana del 1975 cioè a marzo possiamo quindi con un buon grado di certezza identificare come l'orologio del 75 del 1975 marzo 75 è stato prodotto il circuito integrato mettiamo che essendo all'inizio del 75 può essere che sia stato montato anche nell'estate del 75 nell'orologio che ne so anche a fine insomma c'è un po di lasco si può datare come del 75 questo orologio tra le altre cose veniva dichiarato con una precisione pari a 5 secondi al mese è un calibro abbastanza diciamo all'avanguardia per il tempo come si vede poi a delle parti in plastica ad esempio quelle parti che tengono chiaramente il modulo al quarzo e il circuito integrato ma non solo ci sono anche altri leveraggi plastica poi ci sono dei veri e propri punti in metallo come ruote in metallo sette rubini insomma tutto un insieme di elementi diciamo ibridi anche il datario tra l'altro in plastica completamente in plastica è la particolarità di avere lo scatodata rapido e come si fa come si vede dal è in due sensi cioè lo vedete che può tranquillamente muoversi in un senso o nell'altro questo è alquanto positivo poi chiaramente anche il fermo macchina poi per il resto è la classica cassa cuscino degli anni 70 cioè ne ho già tanti di questi orologi fatti così a cassa cuscino però quello che voglio dire io è che non l'ho preso solamente per l'aspetto estetico ma per quello che rappresenta per il calibro al quarzo che che ha poi c'è anche da dire che il quadrante è veramente ben lavorato con queste striature verticali che riescono a dare quel senso di pregio un senso di pregio così come gli indici applicati e il logo applicato non gine come usava proprio quel periodo lì e fino anni 60 metà anni 70 c'era questo questo logo longin che era tutto praticamente unito da dei trattini interni particolare altre cose da dire che la scritta c'è scritta t suisse metti ossia presente il trizio che è presente in quei piccoli pallini al lato degli indici e anche leggermente sulle sfere ora il trizio va a decadere nel tempo però sì se lo illuminiamo con la torcia a raggi uv si nota ancora che una certa luminescenza esiste questo è positivo come ho detto corona originale poi ci sono i segni del tempo però a occhio nudo non si vedono ingrandendo facendo delle macro impietose si notano degli urti insomma al passare del tempo lo si nota c'è poi un'ultima cosa a dire che il fondello è a scatto con questi numerini qua che servono a posizionare il fondello e c'è anche una guarnizione interna all'interno del fondello ho cercato di trovare qualche scritta romantica qualche incisione da fatta dagli orologiai quando facevano le revisioni ma non c'è niente si vede chiaramente che anche povero di finiture in pieno stile anni 70 quando ormai l'orologeria era in una fase buia no si cercava di fare di stare a passo con il quarto appunto non interessava più quasi più fare cose di pregio come decorare con il perlage il fondello interno via via satinato e come viene viene poi per il resto ragazzi questo qua è il mio bellissimo orologino altre cose da dire ce le ho non mi sembra a me mi sembra di aver detto tutto e niente a questo punto vi voglio far vedere una cosa simpatica svelerò anche il mio un altro altarino dei miei praticamente questo bellissimo raccoglitore io ho la la passione di ritagliare le pubblicità dei longin dalle riviste quindi quando trovo una rivista degli anni 50 60 70 dove c'è la pubblicità di un login le prendo la ritaglio e me lo metto nel raccoglitore oppure le acquisto anche su ebay che le vendono e non è che adesso vi faccio vedere per quel poco che siamo adesso adesso vi faccio vedere simpaticamente potete vedere qua le varie pubblicità dei longin che ho ritagliato simpaticamente guardate qua e si nota a un certo punto eccolo qua la pubblicità del longin ultra quarts oltre quarts lo vedete che c'è scritto ultra quarts nel 1972 in occasione delle olimpiadi di monaco che si svolsero in estate come si vede qua fanno riferimento a il longin ultra quarts è il primo orologio elettronico del mondo dotato di un circuito cibernetico di controllo che ricevendo le frequenze di oscillazione bla 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 in questo caso stiamo parlando del calibro cibernetico quello che chiamano cybernetic quello con il circuito stampato è infatti questo orologio qua se volete cercarlo costa delle migliaia di euro è abbastanza ricercato però nella stessa pubblicità si parla anche dell'ultronic quello al diapason che ho anche io in collezione come vedrete poi praticamente quelli qua sono anche i prezzi degli orologi l'ultra quarts casse bracciale in oro un milione e ventimila lì queste qua sono le varie pubblicità ai ragazzi quindi vi ho anche svelato il mio altarino con le pubblicità i ritagli di pubblicità quindi ora sapete che se volete farmi un regalo a natale o al compleanno la cavate con poco un bel ritaglio di giornale della pubblicità di longin e io sono contento adesso eccola qua prendiamo la magica scatola la magica scatola dei miei vinteggini e quelli qua abbiamo tutti in ordine di anno 67 con i calibri che incassano in modo da non poterci sbagliare quasi mai e come vedete c'è lo slot libero per il calibro 91 80 del 1975 quindi non facciamo altro che prendere il cuscino prendere l'orologino nuovo con il cinturino bello questo cinturino secondo me non è adatto lo cambierò un po troppo sportivo però per adesso lo lasciamo e il mio longin del 75 con il calibro 91 80 ha trovato il suo posto nella sua scatola la scatola è finita ragazzi la scatola è finita quindi ci sarà bisogno sicuramente di una nuova scatola e nuovi orologi come disse la scimmietta ragazzi a me mi sembra di aver detto tutto spero vi sia piaciuto questo video questo mio nuovo acchiappo d'altronde a noi ci piacciono questi orologi vintage così è un ultra quartz mi sta proprio bene in collezione mi piace tanto vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love grazie a tutti grazie a tutti